ecco siamo sulla statale ss 106 all'altezza del bivio di pilati di merito porto saldo e come dovete vedere il fenomeno della lupa ha invaso anche la parte non solo la spiaggia ma addirittura il centro abitato la strada e anche oltre quindi improvvisamente una striscia di nebbia una cosiddetta lupa eccola che ne pensi della lupa? non penso lei non pensa nulla nella lupa ma intanto noi la vogliamo mostrare è un fenomeno che quest'anno già è parecchie volte che si manifesta soprattutto in questa zona ecco adesso siamo all'altezza dell'oasi una delle spiagge più belle della costa ionica è simile Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.